L'Udinese Zola brucia Becao poi salta Silvestri e mette il pallone nella porta ormai vuota Da Saju si è buttato dentro Valeri si passa invece da Occherec e poi Ipenassi la sponda Saju! Super goal di Frenz Saju! 1-0 Cremonese secondo gol in due partite per l'attaccante Scuola Milan Una perla di bravura del numero 74 che trova l'angolo giusto per battere Rui Patrizio Felipe Anderson che pesa al traversone dentro la palla passa a Noiting non benissimo Arriva Luis Alberto! Che gol! La sblocca la Lazio a 10 minuti dal novantesimo con un gol bellissimo di Luis Alberto Nasce tutto dall'errore di Noiting che non riesce a respingere questo cross di Felipe Anderson E' arrivato Luis Alberto con un destro che è la cosa più bella che abbiamo visto all'interno di questa partita Coulibaly in avanti verso Piontek la testa di Pablo Mari Piontek prolunga Candreba Cerca spazio trova Coulibaly Destro di Coulibaly! Come ha calciato la Sanà Coulibaly! Ha scelto il pennello per l'1-0 Destro da vedere, rivedere, gustare quello di Coulibaly! Attenzione, Piraghi batte da centrocampo Sorprende Montipò! E' un gol fantastico! E' un gol fantascientifico del capitano della Viola 0-3 Non segnava da 13 mesi Che cosa ha fatto Cristiano Piraghi? Grazie a tutti!